Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Oggi un video veramente brevissimo perché sto andando avanti con Sword of Convallaria. Mi sta comunque piacendo, un ottimo passatempo. Tra l'altro il fattore di avere la stamina che si ricarica abbastanza lentamente è per me al momento un ottimo motivo per poterlo studiare piano piano, per poterlo giocare anche piano piano, non rasciare e quindi cercare di godermelo un po' di più. Quello che ovviamente volevo dirvi oggi sicuramente l'avrete letto dal titolo ma fondamentalmente adesso ho la possibilità di poter aprire le gilde. Molti di voi ho visto che già sotto i commenti mi hanno scritto appositamente per aprire una gilda italiana di Sword of Convallaria e l'idea sinceramente non mi dispiace, se devo essere sincero. L'unico problema è che tecnicamente sto gestendo anche la gilda per quanto riguarda Ever Crisis. Quindi non so effettivamente quanto tempo debba dedicare e quanto tempo si debba perdere all'interno della gilda. Però l'idea non mi dispiace, l'idea di avere un gruppo diciamo di italiani all'interno del gioco mi sta anche bene. Inoltre per tutti quelli che sono interessati ovviamente a contribuire e a partecipare alla community ho il Discord aperto a tutti ovviamente con la sezione dedicata a Sword of Convallaria. Quindi per chi è interessato e per chi ovviamente vorrebbe anche darmi una mano nella gestione ovviamente della gilda vi invito ad entrare su Discord e ovviamente partecipare alla sezione corrispondente in modo tale da vedere un po' le adesioni, vedere un po' quanta gente effettivamente è interessata e nell'eventualità decidere appunto di aprire una gilda tra di noi e per ovviamente comunicazioni e tutto quello che è necessario utilizzare direttamente il server Discord. Detto ciò non credo di dovervi dire altro. Usciranno probabilmente prossima settimana o in generale in questi giorni altri video di Sword of Convallaria. Dovete però semplicemente darmi il tempo di imparare bene le meccaniche di gioco di imparare bene tutto quello che è presente all'interno del gioco perché nel momento in cui farò un video o comunque farò uscire delle guide voglio che le mie informazioni siano il più precise possibili. Quindi datemi ovviamente un po' di tempo per quanto riguarda lo studio e anche l'analisi del gioco e state tranquilli che i contenuti non tarderanno ad arrivare. Detto questo ragazzi io vi saluto, vi ringrazio ancora per il supporto mi fa tanto piacere vedere che appunto possiamo comunque unire le nostre passioni fondamentalmente in un altro gioco quindi ragazzi mi raccomando fatemi sapere la partecipazione alla gilda unitevi al server Discord e detto ciò ci becchiamo con un prossimo appuntamento. Ciao ciao!